guarda che macello stasera che disastro c'è una carica elettrostatica un accumulo di energie elettrostatiche nel cielo guarda che macello che schifo un arcobaleno un arcobaleno guarda che schifo porca misè non è possibile oggi è il 31 luglio 2023 guarda che panorama guarda che un'altra un'altra carica elettrostatica un'altra c'è ragione guarda un po' guarda un po' un'altra carica elettrostatica guarda che schifo guarda che macello che disastro qui c'è c'è proprio un disastro nel cielo ora la e poi è concentrata è concentrata la carica elettrostatica guarda lì che disastro ma come se fa ma come se fa a trasformare il cielo così un schifo uno schifo non è possibile è oh coi capelli li coi capelli li coi capellacci li guarda che schifo quelli bisogna allevarli coi capellacci guarda il cielo là che macello stasera stasera un macello proprio un disastro guarda che roba è la fine la fine guarda che casino lassù proprio pure tutto un ammasso di rubaccia qua un po meno qua è un po meno ma la la è proprio un macello la sopra lì tutto chimico tutto chimico totale che il macello in compenso il panorama si vede bene e stasera è l'ultimo di luglio 2023 sono stato lungomare a fa una passeggiata è un macello raggiù si vede il cielo che è un casino l'umidità te se magna le zanzare te se magna è un disastro un disastro è meglio di tutti a guardar sto palazzo chi che c'ha un cappotto c'ha il cappotto sul palazzo dopo lì piano piano stanno andando avanti vanno e su tutto vedi che c'è il rastrello cui capellacci li è tacca di su e il cielo è un casino la racchetta de babbo che ho fatto vedere ieri guarda un po la racchetta eccola qui la castele che una volta faceva le racchette vedi m montesi che montesi castele quella è una anni 2000 l'altra e niente finito tutto pure oggi si conclude una giornata inizia agosto c'è chi è che sta in ferie c'è chi è che fatica rotta de collo e andiamo avanti così finché non daremo indietro tutti guarda che roba una carica elettrostatica o una carica elettrostatica guarda lì un carico di elettricità nel cielo il metallo nel cielo ha formato quell'ammasso di cariche elettrostatiche che fanno tipo simile a un arcobaleno guarda che roba tu guarda che roba è guarda andiamo su andiamo su guarda vediamo il cielo che cavolo è che cavolo è questa rubaccia lì guarda che macello che schifo